Dai andiamo dalla sigla dai Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda uscita della D.D.Card di Double Duck Come potete vedere questa qua è la seconda uscita I contenuti sono veramente poveri perché sono veramente pochissimi Allora in questa seconda uscita troveremo i due copertoni, le due ruote posteriori della D.D.Card Se non mi sbaglio questo qua deve essere un cerchione Se non mi sbaglio non voglio dire una cavolata Qui sono le due trivelle che si trovano sempre nelle ruote posteriori Che sono queste qua che si sparano E poi abbiamo i due dischi che sono sempre le altre della D.D.Card Con potere fumetto ho pagato sempre 2 ore e 40 E' prezzo altissimo rispetto agli altri Vabbè c'è la crisi, c'è la crisi Andiamo ad unboxare ulteriormente questa roba Questo fumetto Vi informo che in questa uscita troveremo il secondo episodio di Double Duck Codice Olimbo Un'ottima serie di fumetti, di storie No, è una storia a parti, in quattro parti È un'ottima storia, già dalla prima uscita si è capito un pochettino Del primo fumetto ed è veramente un'ottima storia Qui vabbè c'abbiamo la bustina con Aspettate che lo c'entro un pochettino La bustina con I accessori della D.D.Card E qui Fumetto E questo qua, ecco perfetto Andiamola a vedere Fumetto Qui c'è il foglietto e l'abbonamento Regalati un anno di avventure Vabbè Scusate sto facendo un po' di casino con la videocamera Però c'è un pochettino di casino Dove c'entrare un secondo Qui abbiamo il fumetto Andiamola ad aprire Solita barzelletta E come potete dire Secondo episodio di Double Duck Codice Olimbo Che ora vi faccio vedere Perfetto Poi abbiamo Andiamo a sfogliare Qui abbiamo sempre la D.D.Card completa Che ce la fanno vedere La D.D.Card Con la seconda uscita Due in quattro settimane E qui il secondo episodio di Double Duck Codice Olimbo Che non vedo l'ora che lo leggo Come potete vedere Questa uscita E' stata abbastanza povera Perché per finire Alla fine abbiamo trovato soltanto questi qua Fumetto Che è la cosa più importante Oggetti Diciamo Quelli con modi per la titica E' un déplion Che è Del Del Dell'abbonamento Vediamo cosa ci danno questa settimana Se ci facciamo subito l'abbonamento Se ci entro un pochettino Ci hanno allora Faccio vedere di qua Ci hanno la D.D.Card completa E se E se ci abboniamo subito Ci hanno anche questo qua Che è uno zaino Aspetta la settimana Che era un'altra cosa Comunque E questo Sezio E questo uscita E vabbè Questo video finisce scusate Scusate se sto parlando così male Però questo c'è un caldo Veramente forte Questo caldo mi sto dando la testa Non so Sto diventando veramente pazzo Comunque ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Ciao E la prossima uscita Che sarà la terza uscita Ovviamente Ciao Ciao